Mia madre sta su Facebook e mi commenta i post, e io mi sento un poco perso, tipo i naufraghi di Lost, commenta quel che scrivo, con caustica ironia, pensavo di bannarla, ma è pur sempre, mamma mia! Uno, due, tre, e olè! Niente, non funziona. Vabbè, facciamo così, uno, due e tre, e va, allora questo almeno fa patà! Allora, altri rubricchetti, benvenuto a Modena. Questa sera un talk in cui ti racconti, qualche anticipazione? Beh, ho scoperto durante gli anni che spesso la gente mi chiede dove sono nato, chiaramente, come ho cominciato a fare l'illusionista in un seminario, un prete mi ha insegnato i giochi di prestigio, o mi chiedono come mai c'è il cappello così, che premi ho vinto, come è lavorare con Aldo Giovanni e Giacomo, ma diciamo che il pubblico ha dei bigliettini, scrive le domande, io risponderò alle loro domande. Mi sono reso conto poi, dopo aver fatto questo talk parecchie volte, che le domande sono più o meno sempre le stesse, 40, 50, quindi ho preparato delle fotografie, dei filmati, farò anche vedere un filmato di me dietro le quinte. Meraviglioso. Beh, allora la domanda è il ciuffo, parliamo del ciuffo. Sì, questo è un'eredità di Shakespeare che mi ha lasciato quando facevo il sogno di una notte di mezz'estate e poi mi ha portato fortuna perché il superpotere è tutto qui dentro, il giorno che mi taglierò il ciuffo, non mi cambierò più velocemente. E i francesi mi chiamano, infatti, l'italiano con la tua rafel sur la tête, capisci? L'italiano con la tua rafel in testa. Ecco, ma che cosa c'è di meraviglioso nel travestimento? E perché comunque tutti hanno bisogno in qualche modo di travestirsi? Ma intanto è tutto, viviamo tutti con una maschera, no? Lo si dice, l'abito non fa il monaco, sì, cioè l'abito non fa il monaco, prova ad andare dal dentista e te lo trovi in bikini, non so se ti fai trappannare subito, velocemente. Cioè ogni professione ha, la polizia ha gli occhiali da sole, il prete ha il clergyman, il bancario ha la cravatta, l'abito fa il monaco, la maschera ce la portiamo dietro o addosso tutti. E poi specialmente in questo momento in cui Facebook è la maschera proprio della nostra vita, quando mi chiedono anche ma l'illusione, la magia c'è ancora? Cavolo, l'illusione è Facebook, uno fa finta di comprarsi un vestito, fa finta di andare in vacanza, questo è tutto un trucco, no? È un'illusione. Esatto. E quindi quando tu dici che hai iniziato proprio nel seminario, nel seminario salesiano se non erro, ecco, quando è stata davvero la prima volta e che cos'è che ti ha affascinato? Innanzitutto io ho 13 anni, ero un bambino, mezza calzetta, piccolino, magro, giocavo pallone, ero una schiappa, quindi mi vittevano nel bidone dell'immondizia, tanto per ridere. E quindi sono stato un pochino bullizzato, non si diceva a quei tempi, si diceva solo povero deficiente, quindi vabbè. Si rideva anche, non è che sono stato scioccato da questo periodo, però col gioco di prestigio avevo una rivincita, capito? Prendi una carta e l'asso di picca, ma come fai? Eccetera. Quindi ho capito a 13-14 anni che la marcia in più ce l'avevo con i giochi di magia. Questo prete, Don Silvio Mantelli, aveva una stanza piena di illusioni, trucchi, mi prestava i libri, mi faceva da assistente, mi tagliava la testa, insomma tutte queste cose normali, edificanti, che succedono in qualsiasi seminario. Esatto, insomma. Quindi te la saresti mai aspettato un successo di questo tipo? Guarda, il mio sogno quando avevo 18 anni era quello di arrivare a Parigi e fare il mio numero in un musical, in un musical, music trattino all parigino, e mi ritrovo a 20 anni a Parigi, nel più figo musical di Parigi, e quindi il mio sogno si è avverato prestissimo, quindi mi sono sempre dato dei sogni più alti, più importanti, perché? Perché la vita è quella, e soprattutto ho capito, questo è importante, che la gioia e l'adrenalina sta nel viaggio, perché quando arrivi là il traguardo, zumpa, 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 tutti allegri, ma poi dopo un po' tutti va bene, vabbè, ciao, eh, ciao, eh, e tu rimani lì come un deficiente con la coppa in mano e non serve a niente, no? Invece bisogna pensare ad un altro viaggio, ad un'altra montagna da scalare, io mi faccio sempre delle challenge, come si dice in italiano, delle sfide, e adesso la mia sfida ultima è quella di cantare, perché farò un musical a febbraio a Milano, cabaret, e quindi farò MC, il presentatore, che canta Welcome, Bienvenue, Welcome, e io sto imparando a cantare alla mia età. Ecco, a proposito di età, beh, la vogliamo dire, la diciamo, la sanno tutti, ma qual è l'elisier della tua lunga giovinezza, perché non le dimostri? Allora, io ho 64 anni, però non bevo, non fumo, non mi drogo, solamente il sesso e il cioccolato qualche volta insieme. Però il vero segreto è mia madre, perché lei ha 84 anni, è scatenata, e quindi lei prende la macchina, va al mare, ancora adesso, le 11 di sera, quindi, e lei, devo dire grazie a lei, se mi conservo così. Quindi genetica ed esempio? Genetica e poi, vabbè, la dieta, la ginnastica, tutte quelle cose un po' più tristi, però anche non frequentare i miei coetanei, che sono, a volte mi parlano solo della prostata e ciao, cioè... Esatto. Futuro? Futuro, quel musical lì, la ripresa dello spettacolo solo, speriamo, novembre e poi altre cose, già si pianifica per giugno dell'anno prossimo, se riapriamo i teatri normalmente, sì. Come faccio? Me lo chiedono sempre, sì, perché io ho 64 anni, sì, mi tagliate in due e poi con tanti cerchi, con 64. Ciao amici di Modena, amici della Gazzetta, arrivederci e viva il mascarpone!